Siamo con Matteo Morbi nella nuova veste di vicepresidente della comunità montana Valle Seriana e assessore con una delega importante, visto anche il momento storico, quello del dissesto idrogeologico. Com'è la situazione, possiamo chiedere, nel territorio della comunità montana? Diciamo che è stata fatta una mappatura di tutti i reticoli idrici minori e ci sono relazioni pervenute da parte dei vari comuni sullo stato di fatto degli stessi. La comunità montana, in base a queste relazioni arrivate un paio di anni fa, sta erogando dei contributi ai vari comuni affinché essi possano provvedere anno dopo anno alla sistemazione e regimazione di questi reticoli. Ecco, anno dopo anno però le cose cambiano, basta vedere la bomba d'acqua d'inizio settembre, ecco c'è un altro bando di regione a cui parteciperete per nuovi fondi. Esattamente, proprio in questi giorni sta uscendo il nuovo bando di regione Lombardia dove intenzione appunto della comunità montana di partecipare, ovviamente per i propri reticoli, ma anche sta pensando di fare un progetto unico dove inserire appunto alcuni reticoli dei vari comuni, di qualche comune che parteciperà ed è un bando aperto ovviamente anche ai comuni, quindi ci sarà possibilità di partecipare sia a comunità montana sia come singolo comune. Chiaramente come comunità montana c'è un ritorno diciamo del 90% delle spese effettuate, mentre singolarmente comune per comune il rimborso è del 50%. C'è un altro progetto su cui state lavorando perché c'è un altro problema che è quello legato anche alle frane, ne abbiamo visti ancora solo a Vertova, Montedinese nell'ultimo periodo, ad Albino, per non parlare di quella in Alta Valle Seriana. Assolutamente sì, è un progetto ambizioso, come si è fatto appunto per i reticoli, quindi una mappatura, un'individuazione delle problematiche e anche una classifica di priorità, si sta pensando appunto di affidare un progetto simile, uno studio simile per la situazione delle frane nei 38 comuni facente parte della comunità montana. Quanto è importante il lavoro dei volontari in Embro, è un esempio per la pulizia di questi fiumi? Sì, obiettivamente il lavoro della protezione civile è importantissimo, prendo l'esempio appunto la protezione civile di Embro che è impiegata praticamente un weekend o due addirittura al mese per la pulizia dei vegetali all'interno degli alberi dei reticoli minori e anche dei reticoli principali. È chiaro che il loro compito si limita appunto al taglio del verde, alla pulizia dei rami o piuttosto che delle piante, ovviamente in zona urbanizzata. Il problema grosso che si presenta soprattutto e che si è evidenziato nell'ultimo evento calamitoso è la traccimazione da monte a valle di tantissime piante, tantissimi rami, tantissima vegetazione caduta da terreni di privati sull'albero dei torrenti che poi sono arrivati a valle e hanno fatto da diga al primo ponte o ponticello che hanno trovato. Quindi questo è un tema importante da valutare, da capire cosa si può fare su questi terreni privati che ormai sono lasciati un po' allo stato bravo.